Altro che nuovo, se mai è riciclato il nuovo piano di riordino della sanità, secondo l'ex assessore regionale Silvio Paolucci, di nuovo non ha proprio niente. Anche su idea di secondo livello Chieti Pescara e l'Aquila Teramo, parliamo del Dipartimento Emergenza e Accettazione, ossia i super ospedali altamente specializzati, lo schema secondo Paolucci sarebbe lo stesso. Il nuovo assessore, martedì al tavolo di monitoraggio, presenterà una rete ospedaliera con gli aggiustamenti richiesti che è sostanzialmente quella precedente, con degli adeguamenti normativi temporanei fino ad aprile del 2021 soltanto, su popoli e su penne soprattutto, in relazione probabilmente a un passaggio tra wix surgery e i cosiddetti posti ordinari della parte chirurgica. È molto poco rispetto a quello che invece era stato promesso durante la campagna elettorale, più che dall'assessore e dai partiti. Ricordo ancora il grande tema del DEA di secondo livello, noi abbiamo voluto proporre il DEA funzionale Chieti Pescara e l'Aquila Teramo, mentre ricordo la battaglia di Biondi, del sindaco Masci per avere in campagna elettorale il DEA di secondo livello tutto a Pescara. Se si va oggi all'ospedale di Penne e si vedono i reparti che ci sono, nella nuova programmazione sono sostanzialmente gli stessi. E peraltro parliamo di una norma nazionale, quindi non c'entra niente il governo regionale, norma nazionale che su penne fece un deputato dei 5 Stelle e su popoli fece un deputato del Partito Democratico. La sostanziale conferma del piano è stata accolta positivamente anche dal Comitato Civico Salute Pubblica di Chieti, preseduto da Walter Palumbo, il quale parla di super ospedale come di soluzione auspicata fuori da ogni incomprensibile campanilismo. Che i piani di riordino della sanità in Abruzzo, stilati dal centro-sinistra prima e dal centro-destra oggi, si somiglino, lo pensa anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, secondo il quale però la somiglianza è tutt'altro che positiva. In continuità il centro-destra con il centro-sinistra. Il centro-sinistra aveva declassato e depotenziato 10 ospedali. Qui io non vedo nulla di differente, quando diciamo sono due facce della stessa medaglia. Ma non solo, questo non è un piano sanitario. Qui non c'è scritto nulla. Il piano operativo non si sa quando arriverà. E si rischia che quando arriverà il piano operativo, mi è sembrato di capire, a novembre-dicembre di quest'anno, sia troppo tardi. Perché siamo a ridosso della scadenza delle deroghe per salvare gli ospedali di penne e popoli. Che voglio dire? Che se presentano un piano operativo a dicembre e novembre, con tutto l'iter poi ministeriale sovraordinato, si rischia di non poter salvare penne e popoli. Non solo, io avrei voluto leggere il vero piano sanitario, che vorrebbe leggere il Movimento 5 Stelle e Domenico Pettinari, è quello di dire quanti medici in più diamo agli ospedali abruzzesi, quanti infermieri in più, quanti operatori sociosanitari in più, di questo non sappiamo nulla, quante apparecchiature non funzionanti andremo a mettere in funzione perché abbiamo TAC, risonanze magnetiche, ecografi nascosti nei sotterrani, quanti sprechi andiamo ad abbattere, c'è ancora la PET che ci costa 8 mila euro al giorno, e poi piccoli ospedali o grandi ospedali, che cosa si vuole fare? Allora questo piano è filosofia politica.